Entro quasi sottovoce rispetto a questa dolcissima partenza di bellezza di Marlene Kunz dal disco Bianco Sporco, uscito l'undici marzo 2005 per Virgin Records e Emy perché sono le dieci quarantadue e ventidue secondi e siamo alla seconda parte di almeno due pagine al giorno che dedichiamo oggi ad un appuntamento di cui stiamo parlando da giorni anche all'interno delle altre trasmissioni del palinsesto di RBI Radio e TV. Torniamo intanto a dare il benvenuto, ne sono davvero molto contento a Francesco Diasio in collegamento con noi. Ciao Francesco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltandici e gli ascoltatori. E allora per chi ci segue con costanza diciamo e con frequenza sa che prima di Natale abbiamo raccontato un libro che ci ha scaldato molto il cuore, insomma abbiamo, ci siamo molto appassionati a questo libro per chi ci guarda sul canale 87 del Digitale Terrestre, anche sul nostro sito RBI.it Etere, storie di radio, antenne e frequenze dal mondo di Francesco Diasio pubblicato da Altra Economia con una bella copertina di Gianluca Costantini e ne abbiamo parlato perché insomma incrocia diversi temi sulla libertà d'espressione per esempio insomma che è molto, tema molto caro e che noi proviamo a declinare insomma tutti i giorni anche da questi microfoni. Perché Francesco Diasio oggi torna ad almeno due pagine al giorno e sono davvero molto felice di tornare a dialogare con lui perché abbiamo realizzato un appuntamento che si terrà domani alla libreria binaria di Torino che si inserisce dentro un piccolo tour di Francesco Diasio insomma nel nord Italia per raccontare questo libro. Intanto allora Francesco bentornato ancora ad almeno due pagine al giorno intanto come sta andando questo mini tour del tuo libro che è partito insomma ieri da Cantù allo Spazio Libri e la Cornice, poi parleremo anche degli altri appuntamenti. Grazie Francesco. Sta andando bene, molto bene e devo dire sono anche un po' sorpreso e commosso dall'affetto che ho ricevuto. È strano arrivare in un posto e trovare delle persone che hanno letto il libro e che magari hanno tante domande da fare, hanno tante cose che magari sono state delle emozioni che ha suscitato un po' lo scritto ed è francamente una grandissima sorpresa ed un grandissimo piacere. È appena iniziato e sono sicuro che l'appuntamento di sabato con voi sarà un capitolo importante per continuare questo piccolo tour. E allora Francesco Diasio intanto ricordo ancora specialista internazionale di comunicazione per lo sviluppo per la FAO, è stato segretario generale dell'Associazione Mondiale delle Radio Comunitari, in questi anni ha partecipato a decine di missioni internazionali a sostegno dei media indipendenti e della libertà d'espressione, ha avviato Radio Comunitari in giro per il mondo. Per chi volesse recuperare intanto insomma quell'intervista molto approfondita che abbiamo fatto insomma qualche mese prima di Natale intorno ai contenuti può andare sulla sezione del sito della radio rb.it e recuperare quell'intervista. Ovviamente non voglio scartarmi insomma e mettermi di lato rispetto ai contenuti del libro di cui abbiamo già parlato insomma qualcosa insomma te la chiederò anche ancora tra poco però ci tengo innanzitutto a focalizzare anche questi appuntamenti perché Francesco in Italia dicevamo ieri a Cantù tra l'altro ribadisco una cosa a cui ci tengo insomma Francesco ci parla dalla sede di Altra Economia l'editore che ha pubblicato questo prezioso libro e che con noi di RBA e con Binaria del gruppo Abele insomma ha messo in piedi anche questo appuntamento di domani. Intanto togliamoci il dente del calendario perché per esempio oggi hai un doppio appuntamento a Milano alla biblioteca Parco Sempione con Danilo De Biasio direttore del festival dei diritti umani e poi alle 21 a Villa Borletti a Origio in provincia di Varese. Domani a Prodi a Torino e ne parliamo tra pochissimo. Martedì sarai ancora a Milano per il giorno della World Radio Day al Talent Garden Calabiana. Lasciami dire una piccola piccola picca che ovviamente non è nel calendario ufficiale ma che voglio condividere con voi. Prima della biblioteca del Parco Sempione alle 18 alle 14 sarò alla scuola di Ivaio con una seconda media a parlare di radio con dei ragazzi di 12 anni e cominceremo magari a capire come è affinare il nostro ascolto. Avremo una piccola pillola di tre minuti con diversi suoni, l'accenno di una storia, cerchiamo di capire quali sono i mestieri che si nascondono dietro la radio e poi perché no, perché non pensare insieme ai ragazzi a nipotesi di costruirne una all'interno della scuola. Ecco, quello non è negli appuntamenti ufficiali ma sicuramente è qualche cosa che ho molto a cuore. Infatti sento dalle tue parole insomma anche molto calore rispetto a questo appuntamento, un appuntamento prezioso con i giovanissimi rispetto a che questo vuol dire insomma fare radio, cominciare a quell'età credo sia un, come dire, anche in questo tempo, come dire, assolutamente digitale, un tempo prezioso insomma. L'appuntamento di domani è un appuntamento che si terrà in una libreria a Torino, la libreria binaria che noi insomma conosciamo molto bene perché insomma abbiamo già realizzato alcune cose, collaboriamo con il Festival Serre d'Estate insomma che si terrà a fine giugno, per cui è un luogo, come dire, molto prezioso per affinare il pensiero rispetto ad alcuni temi. A proposito dei temi legati, come dire, al libro di Francesco D'Asio, Etere, storie di radio, antenne e frequenze dal mondo pubblicato da altre economie. Siamo innanzitutto, Francesco, come dire, a mettere insieme alcuni compleanni perché insomma questo è un anno fondamentale, il 2024, si festeggiano i cento anni dalla nascita della radio, il 13 febbraio, lo dicevamo poco fa, sarà il World Radio Day e c'è anche un compleanno anche per noi di RBI che quest'anno insomma spegniamo 40 candeline, per cui, come dire, insomma, è interessante anche potersi fermare, per esempio domani a Binaria, per ragionare sui passi che la radio ha fatto in questi cento anni, ma anche, diciamo, dell'incidenza che ha dentro la società contemporanea. Pensavo anche a quanto sia fondamentale anche per i paesi cosiddetti civili, insomma, la nostra Europa, insomma, parlare ancora oggi di libertà e democrazia, insomma, molto spesso assolutamente a rischio. Che ne pensi, Francesco? Come no, è fondamentale, è fondamentale. Intanto auguri, possiamo dire che RBI non è più una signorina, è stata diventata una signora abbastanza matura per affrontare questi temi e sicuramente con un grande legame con gli ascoltatori. Ecco, questa è una cosa importante. Parliamo di diritti di comunicazione, parliamo di libertà di espressione, ma parliamo soprattutto, Francesco, di partecipazione. Certo. E la radio ancora oggi, dopo cento anni, con tutti i mutamenti che ha avuto e con tutti, diciamo, le prospettive che ha, è ancora l'unico mass media che suscita e che provoca partecipazione, dai dibattiti più accesi a quelli più controversi, alla piccola dedica di una canzone che magari viene fatta con il telefono, gli interventi con un filo diretto. Ecco, questo legame tra ascoltatori e radio è sempre più forte e voi che avete 40 anni di sicuro ne avete accumulati un bel po'. Complimenti. Grazie, grazie mille. Poi, insomma, i complimenti, insomma, le tue parole ci fanno davvero molto piacere, ci scaldano il cuore e, come dire, ci confermano anche sul lavoro che facciamo tutti i giorni. Ma mi verrebbe da farti anche una domanda molto banale, perché, insomma, tu che conosci e che segui, come dire, la vicenda, la vitalità, insomma, anche delle radio, le radio comunitarie, le radio libere nel mondo. Insomma, oggi nel 2024, a cento anni dalla nascita di questo medium, qual è lo stato di salute della radio? Lo so che è una domanda forse impossibile, però, insomma, qualcosa la possiamo dire, no? Ma, guarda, è un paziente che hanno dato moribondo ogni cinque anni, ma è un paziente resiliente, te lo posso assicurare, e la radio continua a essere vitale, continua a trasformarsi, continua a crescere, continua a prendere nuove forme. È chiaro che la tecnologia porta tante, diciamo, opportunità per lo sviluppo delle emittenti e soprattutto, magari, per l'accesso di nuovi gruppi, di nuovi collettivi, di nuove organizzazioni, per poter, magari, affrontare questo tipo di percorso. Per cui, sai, ti devo dire la verità, non è un paziente resiliente, che comunque continua a tenere botta, diciamo, nonostante i tanti cambiamenti che ci sono stati. Allora, diciamo che in questo caso, come dire, definire resiliente la radio, insomma, ci fa piacere, perché di solito viene usata anche un po' a sproposito questa definizione, quasi fino al fastidio. Ma intanto, Francesco, rispetto al tuo lavoro, insomma, nel mondo, insomma, hai lavorato a piccole emittenti che in mezzo spesso al nulla sono riusciti, insomma, a costruire comunità di persone, perché l'elemento sul quale è importante, forse ancora oggi, quasi sembrando inattuali, insomma, si può focalizzare il lavoro, diciamo, di chi anche costruisce delle radio, è quello della costruzione di una comunità, insomma, poi tra poco vorrei chiederti anche, fare ancora una riflessione su quello che sta succedendo, per esempio, nella striscia di Gaza adesso, però, insomma, intorno ad una comunità è possibile, come dire, consolidare uno strumento che parla, diciamo, alle menti, ai cuori, e anche stimola, come dire, anche la reazione rispetto, spesso a situazioni assolutamente non democratiche, no? Sì, 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 è fondamentale ricordare questo, ed è fondamentale anche ricordare un aspetto che magari a noi sembra quasi scontato, queste radio locali, queste radio comunitarie, in realtà hanno un grande vantaggio rispetto agli altri media, ed è del vantaggio di parlare la stessa lingua. Certo. Io mi riferisco proprio alla lingua parlata, quella vera, immaginiamo, e sappiamo benissimo, che in tantissimi paesi, in Africa, come in America Latina o in Asia, spesso e volentieri le lingue ufficiali sono rimaste le lingue coloniali, parliamo del francese, dell'inglese, o dello spagnolo, ma la lingua parlata sul territorio non è quella, è lo suaili, è il tecua, è il macundu, sono queste le lingue locali, ed è questa l'identità culturale e la vicinanza che si sviluppa tra chi trasmette e chi ascolta. Sembra un elemento secondario, ma è una cosa importantissima, perché su questa identità culturale poi dopo si costruisce la fiducia, si costruisce il dialogo e si costruisce quel percorso comune che fa di questa radio una radio comunitaria, dove c'è una comunità di ascoltatori e una comunità che partecipa attivamente alla vita della radio. Ecco, non dimentichiamo questo aspetto, perché è veramente centrale. Il linguaggio, il vocabolario comune, insomma, la lingua comune, la lingua comune, esatto. Poi volevo, come detto poco fa, insomma, se puoi darci degli elementi, insomma, la prima radio comunitaria, se non sbaglio, insomma, o la prima radio libera in Palestina, l'avevate costruita tu e i tuoi collaboratori, se non sbaglio, ma più o meno, insomma, vedo che un po' con la testa sei un po' titubante, però vorrei che ci raccontassi anche un po', nel senso che oggi è praticamente, insomma, qui non voglio essere troppo pessimista, ma è praticamente impossibile raccontarla, proprio da vicino, come dire, quella immane tragedia, o no, Francesco? No, è molto difficile, è molto difficile. C'era una bellissima esperienza che avevo incontrato, che era chiaramente indipendente dal tipo di lavoro che facevamo, ed era un emittente che si chiamava All for Peace, che era una radio con una doppia redazione palestinese e israeliana, che trasmetteva da Gerusalemme e che è trasmesso per tantissimi anni. Ed era proprio il caso emblematico, diciamo, di un tipo di esperienza dove due gruppi di giornalisti con culture e con lingue diverse comunque riuscivano a stare sotto lo stesso tetto e trasmettere, se vogliamo, una linea editoriale che era chiaramente critica con una parte e con l'altra e incoraggiava al dialogo. Un'esperienza che purtroppo è finita, ma ce n'è un'altra che è nata questa volta non a Gerusalemme ma a Ramalla, che si chiama Radio 24, e che raccoglie anche lei una doppia redazione. Noi con i miei colleghi e in partnership con una ONG di Firenze, che si chiama COSPE, con la quale abbiamo lavorato per tantissimi anni, avevamo messo su una radio nell'università di Birzeit, che si chiamava Radio Shabab, che Shabab vuol dire i giovani, non va associato sempre al Shabab, che è un gruppo armato che è purtroppo presente in tante parti in Africa. Radio Shabab è stata una bellissima esperienza perché all'interno dell'università di Birzeit poi in realtà ha coinvolto un'altra decina di associazioni da donne e giovani di diversa natura che partecipavano proprio alla programmazione dell'emittente e lavoravano tutti insieme. Anche quello è stato un esperimento importante perché chiusa quella stagione, quella stessa radio ha continuato a lavorare anche dopo i progetti per cui si è riusciti a garantire la sostenibilità nel tempo di questa esperienza e continua a trasmettere in maniera regolare dalla Palestina. Questi sono esperimenti dove uno degli aspetti principali non è soltanto l'accesso, ovvero questa è la macchina, queste sono le chiavi, vai e continua a navigare. No, è proprio la sostenibilità ed è questa la riflessione che va fatta ogni volta che ci sono dei progetti di cooperazione. Quanto sarà sostenibile questa iniziativa? Come possiamo lavorare insieme ai nostri colleghi per garantire che nel momento in cui un progetto finisce queste esperienze possono andare avanti e tutto il ragionamento sulla sostenibilità è chiaramente legato a quello che dicevamo prima, a una sostenibilità sociale prima che finanziaria perché è solo con una sostenibilità sociale con la comunità degli ascoltatori che poi dopo si crea una sostenibilità finanziaria che viene dopo. E questa sostenibilità poi dopo diventa in concreto la politica editoriale degli emittenti diventa quello che va in onda giorno dopo giorno come riesci a fare quel servizio di interesse pubblico che poi dopo può essere veramente importante per i tuoi ascoltatori. Ecco, e queste sono esperienze che chiaramente devono essere ripetute e chissà se in una situazione come quella attuale adesso in Palestina e cose di questo tipo qui possono portare più dialogo e possono portare magari a un processo di pacificazione quantomeno tra le popolazioni prima che tra i governi. E allora questo, come tantissimi altri argomenti saranno al centro della conversazione dell'incontro di domani pomeriggio insomma tra gli altri con Francesco Diasio io insomma sono onorato di poter conversare anche domani pomeriggio in presenza con Francesco Diasio alla libreria Centro Commensale Binaria di Torino in via Sestriere a partire dalle 18.30 intorno a Etere storie di radio, antenne e frequenze dal mondo di Francesco Diasio pubblicato da Altre Economia che con Binaria e con RBA ha realizzato questo appuntamento tra l'altro la copertina di Gianluca Costantini disegnatore anche di campagne importanti come per Patrizacchi se non sbaglio anche Ilaria Salis in questo momento Francesco intanto grazie per essere stato ancora qui con noi e ci vediamo domani allora grazie a voi sì con molto piacere l'appuntamento è per domani alle 18 accorrete numerosi e chiaramente il dibattito continuerà su altri tipi di onde grazie Francesco allora buona giornata e a domani ancora un passaggio musicale siamo a Nora Jones ciao grazie a tutti